Con qualche brividino ma l'ho fatto Con qualche brividino ma l'ho fatto Ma hey come state? Come va la vostra esistenza? Completo Minecraft ma non posso accovacciarmi O come si dice comunemente non posso shiftarmi Questo significa che dovrò stare attento a dove metto i piedi Altrimenti potrei incappare in una morte molto dolorosa E che non posso fare ponti Perché senza lo shift fare ponti è decisamente rischioso Comunque ci siamo quasi Mancano solo 998.372 iscritti al milione Quindi controlla di esserti iscritto al canale Se ti piacciono i miei video non dimenticare di piazzare un bel blocco di terra Su quel tasto dei like Questa serie la porto in live su Twitch Primo link in descrizione E come sempre enjoy Secondo me rispetto alla challenge di completare Minecraft In terza persona è molto più dipendente dal mondo che trovo Se trovo un nether che è difficile da percorrere È un bel disastro non avere shift È un bel disastro Se invece trovo un nether facilmente percorribile Magari ce la posso fare Non posso brigiare Questa è una delle difficoltà principali che avrò nel nether Vediamo Pronti? Via Speriamo in un buon seed Speriamo in un buono spawn Speriamo di non spawnare in un bioma innevato senza alberi Come al solito Giusto Non potendo premere shift E già sentite il tasto Non posso neanche premere shift nell'acqua È strana questa cosa Devo dire che di per sé non sembra così tanto difficile A prima... Oh là c'è un portale rovinato Non sembra così difficile a prima... A primo pensiero Però è anche vero che in realtà Personalmente io lo shift lo abuso molto spesso Mi servirebbero 4 di ossidiana Ok no 2 di ossidiana Perfetto Anche armature in oro con respiration Niente male Direi che si può iniziare a giocare questo seed Dai Devo focalizzare nella mente Se trovo un bordo tipo di un canyon Un bordo di una puzza di lava Un bordo di qualsiasi cosa N stai attento a non fare cazzate Stai davvero attento a non fare cazzate Ma per muoverti nell'inventario puoi premere shift? No perché l'ho disattivato Uuuu No perché l'ho disattivato È vero Non posso neanche fare questo Non posso neanche premere shift nell'inventario Tipo già adesso devo stare attento Perché io non posso usare shift Quindi Piano Ok no è una caverna molto inutile Quindi niente Posso anche stare direttamente Qua giù Cioè oro Ho trovato seriamente l'oro prima del ferro Ok ferro qua Trovato Speriamo di non morire in qualche modo Diamanti Let's go Diamanti ragazzi Ok 5 diamanti Oee Amico mio Che si dice L'oro mi serve a qualcosa Onestamente no C'ho già pure l'armatura in oro Quindi no Altri diamanti Vai Full diamante Speedrun Any per sentence Zulitzes Ti sei scordato un diamante Ti sei scordato un diamante davvero? Vabbè dai torni al su Mi sono stancato davvero Anch'io E da dove sono sceso? Oh Questo buco c'è sempre stato? Oh Però altri diamanti Li prendo Ma dov'è che l'ho mancato? Ma siete sicuri? Ah si L'ho mancato si Speriamo solo Di trovare un bel nether Perché altrimenti È un casino muoversi nel nether Davvero è un casino Adesso vediamo di fare questo portale Fatto bene Senza trollare niente Ok Altro cibo dovevi fare? Forse sì Devo fare altro cibo al volo Però guardate Già adesso No Beh dai dai Non è così male Non è così male Meno male Ecco tipo anche Semplicemente fare parkour Nel basalto Senza shiftarsi Mh Rischioso Oh ecco E ora come faccio? Vabbè così Non è così difficile Vero? Ah Ho paura Ah Ok così Ok ci siamo Corri Ok a posto I primi brividini Allora La vedo una fortress C'è di nuovo come l'altra volta Fortezza e bastione attaccati Scavo Vabbè un piccolo indiamante Posso anche scavare Cioè Di qua mi dà cento entità Con questo fo- Ah 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 Aiuto Ah Aiuto Mi sto sbagliando Oh my god Ho già rischiato un sacco Ma è di qua per forza Di cose No E io ora come esco? Così Per forza Ok Non posso uscire dalla barca io Oh my god Oh eccolo qua Ho trovato Io non posso shiftarmi Quindi sarò a debita distanza Paura Ok Si vola Non morite nella lava però grazie Spettacolo Spettacolo Oh spettacolo Dieci Dove la tiro? Lassopra no Ho paura raga No ripenne no Ho paura però Ok Anche troppo facile Ok Un finito di rischio Se fossi caduta di qua Ok Adesso è il momento più Tra molte virgolette Creditico Quindi rigenera un attimo Blocchi alla mano Pronti E 3 2 1 Via Come la prima volta Ok A posto Sapete che Però Davvero credo che sia Cioè Mi sta sembrando più facile Di quanto pensassi Cioè credevo di slipperare In giro Slipperare intendo scivolare in giro Molto di più Invece no Ah dovevo scavare sopra Sì è vero Non l'ho fatto Guarda già le perle Easy Allora ho 14 perle Solo 14 Solo 13 perle È un rischio 13 perle Ma anche le stringhe Ma mi state scammando un sacco voi Oh grazie per le perle Altre stringhe no Basta Importante avere un po' di fire Se ce le ho Un po' di stringhe ce le ho Cioè un po' di fire resistance Ce le ho Le stringhe ci penserò poi in futuro Ciao Tu Chi stai mirando esattamente Ok No l'ho mancata O forse no Oh No l'ho mancata Tanta roba Allora adesso Forse arriva una parte problematica Quindi devo stare un attimo all'occhio Forse mi No vabbè Niente scudo Lo scudo È per gli scarsi Sono sponati solo scheletri laggiù Wow Va bene È il momento delle blazer Oh finora tutto facile Cioè davvero tutto facile Non vorrei tirarmela un sacco Poi arrivo nel land Sbaglio il one cycle Che ne so però Davvero davvero semplice Per il momento Mi ha fatto paurissimo Signori Diventiamo dei peccatori Ok ole Stai su Ma grazie Ma sette blazes ho già Che coordinate sono? Matrix Matrix Pronti? Oh 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 Ti lascio stare va È il momento di fare il breezly raga Vediamo se riesco Via No non riesco Breezly con i blocchi di ossidiana Posto Modern problems requires modern solutions Onestissimo Onestissimo Si vola Adesso mi servono solo le stringe È l'unica cosa che mi manca Magari anche un po' di cibo Ehi È notte Già Parte opposta Madonna Quanto in ritardo No E ora con la perla Se tiro una perla posso uscire Se tiro una perla Se tiro una perla No non posso Saltare non funziona raga Non funziona saltare Non puoi uscire dalla barca saltando Solo con shift Con una perla Con una perla Per forza Facciamo così Ok ce l'ho fatta Ehi ciao amico Non mi puoi fare uscire in qualche modo Ma non si può proprio uscire dalla barca Se non si preme shift È pazzesca sta cosa Cioè io non posso proprio uscire Lasciami uscire E niente Devo tirare un'altra perla Vai proviamo a fare Quanti occhi ho Vabbè abbastanza Trianglazione No no Volevo fare una trianglazione tattica Ok l'ho già superato Non sto capendo Eh scrivania sono le speedrun Sono cose molto complicate delle speedrun Cioè Come si speedrun a minecraft Io faccio certe cose con un senso Perché so come Trovare la stronghold facilmente Che è questa La stronghold Eccolo Ho paura No paura C'è così Signori È arrivato il momento di entrare Non volevo rischiarmela raga Non volevo arrivare qua Poi fare un saltino E per sbaglio morire nella lava Ho voluto Sono voluto andare sul sicuro L'ancora secondo voi Va messa prima o dopo O dopo rispetto ai letti Ho paura di trollarla raga Prima lo so Ma ho paura di Scordinarmi completamente Prima Tutti credono prima però Ah giusto Non l'ho fatto Vabbè signori È arrivato il momento Non l'ho fatto prima di entrare nel portale Lo faccio adesso È arrivato il momento È il momento del one cycle Quindi è il momento della parte finale È il momento di vedere Se è davvero Così tanto facile Vincere minecraft Senza shiftarsi Oppure trollarlo one cycle Alla fine Questo non è un perch Questo sì però Potrebbe esserlo Sì 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 Ok al momento Ok questo era per sicurezza Perché mi sembrava basso No Vabbè dai GG lo stesso Dove vuoi tu bro Con qualche Brividino Ma l'ho fatto Con qualche brividino Ma l'ho fatto Mi giuro Oh ok Avevo Avevo un cuore Alla fine avevo un cuore Devo piazzare l'acqua Con qualche brividino Ma dai Ci sta Ci sta DEVO La fine avevo un cuore